Salvatore Crispino, rappresentante sindacale degli operatori della riefezione scolastica. A Torre del Greco ci sono ritardi nella partenza della mensa. Che cosa sta succedendo? Purtroppo, come ogni anno, abbiamo sempre di questi tipi di problemi. Purtroppo la politica torrese, come vedo, non costruisce ma o ferma o blocca ogni minima iniziativa. Dal comune si dice che hanno poco personale. Quindi poco personale al comune fa sì che 50 famiglie che lavorano con la mensa scolastica purtroppo sono bloccate al palo. I contratti nostri sono contratti addirittura sospesi, quindi 50 famiglie che non percepiscono stipendio. E quindi ci sta una forte problematica lavorativa. Oltretutto c'è anche una problematica per tutta Torre del Greco perché persone che lavorano e tutto non possono soffrire i bambini della mensa scolastica. Quindi è un problema doppio sia per i lavoratori che per le scuole? Purtroppo sì. I bambini dovrebbero fare tempo prolungato a scuola e purtroppo senza la riflessione scolastica non riescono in questo. Quindi le attività didattiche non le possono fare. Di solito la mensa parte intorno alla metà di ottobre? Allora, con la ditta vecchia partivamo sempre il 15 ottobre. Da quando c'è stato questo cambio di amministrazione, purtroppo, con il cambio di ditta, problemi di Covid o di gare, purtroppo non c'è stata più una partenza il 15 ottobre. Ancora oggi stiamo aspettando e stiamo fermi. Voi come sindacato vi siete interfacciati con il Comune. Qual è stata la risposta? Sempre ci interfacciamo con il Comune. Purtroppo sempre risposte evasive. E quindi questa è la politica di non fare questa è la problematica. Quindi risposte evasive e quindi non riusciamo mai a avere una certezza su questo tipo di problematica. Voi adesso rispetto ai lavoratori che cosa intendete fare? Allora, noi stiamo chiedendo adesso di nuovo parlare con l'ente preposto per sapere più o meno quando si riesce a bloccare questa situazione. Altrimenti è previsto una mobilizzazione di tutti i lavoratori e casomai anche di tutti i genitori che non possono soffrire del servizio.